L'Assemblea del Giambellino della Casetta Verde è il momento in cui riuniamo tutto il quartiere per discutere la situazione che stiamo vivendo tutti insieme e trovare le risorse per cambiarla. Nel 2009 abbiamo avuto in concessione, vincendo un bando, questo posto, questo giardino e questa casetta verde. Partecipo alle attività del Giambellino da ormai un paio di anni, ho partecipato a Scinnice e il Cinema, ho partecipato anche a diverse attività nei centri di aggregazione del Giambellino e trovo queste iniziative assolutamente aggreganti Scinnice e il Giambellino che già da solo rappresenta un po' l'attività della casetta che fa collaborare tutte le agenzie di zona, tutte quelle che ci stanno, sui problemi del quartiere. Ci vediamo sabato 30 settembre in via Apoli 2 alle ore 14 perché faremo questa prima festa. aiutiamoci a non fare bucchere, chi non può portare, i numeri qua sono lì, ah, i numeri tre insieme a Gabriele. di trovarsi insieme, sedersi a un tavolo, discuterne e ognuno propone qualcosa di nuovo, qualcosa di positivo. Un giornalino del Giambellino, Cartaccio, è stato chiesto proprio Cartaccio. Sparare una lingua straniera. Scambio di beni e servizi. Rilanciare un percorso interculturalità di incontro con il mondo islamico. Raccontare i suoni, i confini di questo quartiere, le storie che vengono narrate quotidianamente all'interno di questo quartiere. Ricostruire un gruppo di lavoro di controllo e monitoraggio e condivisione di aggiornamenti e informazioni sui diversi interventi di riqualificazione di questo quartiere. Grazie. 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 Grazie.